Siamo un'azienda specializzata nel mondo del settore dei trasporti e della logistica. La filiale di Ancona è una delle filiali di punta all'interno della business unit Italia, se non altro per la location. Siamo a 300 metri dallo scarico delle navi porta container con una struttura di 5.800 metri quadrati di magazzini. Fondamentalmente la Geodis Wilson Ancona ha come peculiarità quella di essere hub all'interno del gruppo di tutto quello che è merce in importazione marittima. Tutto quello che arriva in importazione dai paesi extra c'è, viene confezionato, paletizzato e poi portato all'interno dell'area 3, catalogato. Grazie a tutti! Grazie a SIDAP riusciamo a ripercorrere tutto il processo che fa la merce dal momento che arriva il magazzino nel container, fino a quando facciamo gli imballi, la giacenza al magazzino e poi al successivo passaggio che è quello di sdoganare la merce e mandarla in consegna. Oggi presentare ad un cliente un valore aggiunto significa non solo gestire il trasporto da un punto A ad un punto B, ma presentare un'offerta che sia molto più integrata. Questo ci porta inevitabilmente a dover utilizzare degli strumenti estremamente importanti che ci aiutino ad essere precisi nella gestione degli stock, nella gestione di quello che noi effettivamente movimentiamo all'interno del magazzino. Credo che uno dei plus che questo sistema ha è proprio la possibilità di inserirsi all'interno del programma da qualunque parte, perché è un programma che viaggia via internet. Effettivamente quello che è la soluzione integrata, di andare da un cliente e dire ti dedico un magazzino virtuale e tu con la tua password sei in grado di poter analizzare quello che noi stiamo facendo, quello che ti abbiamo preparato, quello che è non sdoganato o che altro, questo effettivamente è un grande valore aggiunto. Grazie a tutti.